Uè, nel corso della prima stagione dell'infiltrato ho dedicato alcune puntate alle comunità più maschiliste e misogene presenti sul web. Potete recuperarle cliccando tipo qui. Ecco. Naturalmente sono stato sommerso di insulti da parte di uomini frustrati che mi hanno accusato di complottare assieme al genere femminile per instaurare una dittatura della patata. Così ho avuto un'idea geniale. Stavolta mi occuperò delle comunità più estremiste legate però al femminismo. Così possono insultarmi le femmine ora accusandomi di essere maschilista e misogeno. Dai Matti, grande mossa, grande mossa. La puntata di oggi sarà all'insegna del mansplaining più becero e vede come protagoniste le femministe radicali, una branca del femminismo estremista e che non ammette mediazioni con l'altro sesso e che combatte per raggiungere i propri obiettivi sino allo sfinimento di chi le ascolta. Se vi piace il video iscrivetevi al canale! Cominciamo col capire di chi stiamo parlando. Siamo femministe radicali, gender critical italiane, in rete con gruppi femministi radicali internazionali. Lavoriamo solo con donne, a prescindere da ogni orientamento religioso e o politico. Lottiamo per la fine del dominio e della violenza maschile. Perché gli uomini sono tutti malvagi, tutti noi siamo tipo gli urucaiche, ma non giuro quello del best e il body. Siamo contrarie all'autocertificazione di genere. Ci opponiamo a qualsiasi forma di sfruttamento sessuale e commerciale e a ogni manipolazione dei corpi di donne e bambine. Signore ho tagliato un po' troppa retorica, che faccio? Lascio? Oh, finalmente un po' di chiarezza. Allora, Radfem Italia in radice per l'abolizione di genere, prostituzione, portografia, utero in affitto. Benvenuti nel 22, nel 1922. Quindi possiamo dire che il femminismo radicale si distacchi dal femminismo, sia per i valori fondanti, che non sono tipicamente progressisti e liberali, ma anche dall'impostazione che gli viene data, che non è, diciamo, guidata da parole legate all'emancipazione femminile o alla parità dei diritti, ma piuttosto all'imposizione di una linea di pensiero. Allora, di base diciamo che si respira un'aria pesante di chi per troppo tempo è stata costretta a subire dei soprusi e che ora vuole impostare il non-dialogo come una rivoluzione. Di cosa si parla? Allora, principalmente ampio spazio viene dato alle violenze subite dalle donne, così come anche ai simboli della lotta femminista. E fin qui tutto bene, benvenga, ci mancherebbe. Ma poi, poi arriva lui. Lo sapete, lo sapete di chi sto parlando? Del patriarcato. Colui il quale serpeggia viscido e subdolo. Perché gli uomini sono dei vermi schifosi? Ho notato una cosa, in generale, nel comportamento dei gatekeepers maschili e anche delle ancelle del patriarcato. Parentesi, le ancelle del patriarcato sono le femmine che decidono di non combattere sotto l'emblema del femminismo radicale, perché sono complici. Il patriarcato sa assumere qualsiasi forma, anche quella pseudo-femminista. Ovvero libfem, choicefem, transfem, ma anche il femminismo istituzionale, moderato e riformista, il femminismo di superficie, il femminismo apolitico, parte del femminismo intersezionale, del femminismo preptaporte, buono per tutte le stagioni, il femminismo che sta comodo comodo nel capitalismo come un pisello nel baccello. Ma chi cacchio ha scritto sto posto, Salvini? Purtroppo tantissime non si accorgono delle infinite trappole, tele di ragno, tese dal patriarcato. Perché ricordiamolo che il patriarcato è subdolo. Ci sono le donne e ci sono le uome, soprattutto nei piani alti del potere. No uoma, no cry. Le ancelle fucsia continuano a negare l'esistenza delle donne e tutto ciò che riguarda il sesso femminile. Adesso le malattie come l'endometriosi, che riguarda unicamente le umane di sesso femminile, non sono più malattie delle donne, ma malattie cosiddette femminili, tra virgolette. Perché dire donne oppure sesso femminile è peccato e si può accadere nel terfismo. Perciò fanno come i talebani, ci cancellano, invisibilizzando la nostra propria oppressione. Zia, anche meno. Anche meno. Con sta roba dei termini con i quali definire le donne ci sono proprio ossessionate. Cioè, a leggere sti post sembra che ci sia nato un complotto globale per eliminare la parola donna, il termine femmina. Cioè, zi, è un problema che non esiste, è un discorso totalmente autocostruito, ma tipo le teorie della sostituzione etnica o del gender. Cioè, nel senso, state combattendo una guerra che avete costruito voi, nessuno vuole distruggere le donne, ve lo giuro. Ma poi c'è, ad esempio, parliamo della schwa. La schwa. La questione schwa non è una battaglia femminista. Donne in prima linea per cancellare il femminile. Vergogna per le intellettuali che si stanno schierando a favore. Sono d'accordo, è una cagata e cacofonicamente inutile. Però se mi combatti così aspramente la schwa, poi non mi puoi sfracassare i bombolotti perché devo tradurre tutto al femminile. La pretesa di declinare tutte le parole al femminile è cretina. Sostituendo una vocale con un'altra, non si cambia la condizione della donna. Disconosce la sua femminilità. Forse avrebbe voluto nascere uomo. Ma che pensiero profondo. Allora avvaliamo anche qualsiasi epiteto volgare e negativo. Tanto la condizione della donna non cambia. E forse per lei non cambierà mai. Ma poverina dai ma non ti è mica mandato a fanculo. Ha solo detto che, secondo lei, non è traducendo falegnama e architetta che si risolveranno i problemi legati al maschilismo. E che palle. Studiare italiano no, eh. E comunque preferisce essere definita poeta a poetessa. Un po' come la direttore di orchestra. Signorina, mi perdoni, ma già che mi invita una che di mestiere fa la scrittrice a studiarsi l'italiano, direttrice esiste, insomma. Poi comunque ognuno la chiami come vuole, eh. Però, insomma. Abbiamo dunque capito come il femminismo radicale imponga una visione rigidamente classista e decisamente poco fluida circa la sessualità umana, con una netta distinzione delle differenze di genere. Che sta succedendo? Per favore, in questa pagina è bandito il termine genere. Puoi esprimere il concetto con altre parole? Scusate, vi prego, perdonatemi, oh famiglia, vi prego, non arrestatemi. Come posso dire? Diciamo che questa identità femminile radicata molto fortemente si manifesta con un sentimento di leggera transfobia. Ciao a tutte, mi hanno consigliato questo libro, ma vorrei trovarne uno in italiano oppure in inglese sullo stesso argomento, cioè di come la teoria gender, queer, si è infiltrata dentro il femminismo per distruggerlo dall'interno, abbracci femministi. Non so cosa darai per scoprire cos'è un abbraccio femminista. Comunque, esattamente sta teoria gender di cui tutti parlano. Cos'è? Cos'è? Ditemelo, cos'è? Allora, metaforicamente vediamo questo bellissimo rullo transessuale che calpesta i diritti delle donne. La salute dei bambini, gli sport femminili, preme gli spazi delle donne. Poi che dire? Allora, Judith Butler dice che l'incesto dei genitori contro i bambini a volte non è stupido. Questa è la teoria queer. E per portare tutto a casa, suggerisce, insieme ad altri teorici queer, pro***ofili e anarchici, che vietare l'incesto tra genitori e figli è di per sé dannoso. Ma siete sicure? Siete sicure che sia questo? Che siano tutti pedo... A Bologna, Porpora Marcasciano, una persona trans, è stata nominata presidente della commissione pari opportunità del comune. Le auguro buon lavoro, ma dobbiamo stare attente e vigilare. A vigilare su che cosa, esattamente? Qual è il problema? Mi sembra un post veramente inadeguato. Le auguro buon lavoro? Che tipo di lavoro? Certamente se a favore della prostituzione contro le donne e a favore degli uomini. Fortunatamente è stato bocciato dall'opposizione. Che se ne torni nelle fogne! Ah, giusto, naturalmente, perché essendo trans vuole instaurare una dittatura della prostituzione, perché tutti i trans si prostituiscono, ricordiamolo. Mentre grandi testate come il New York Times e il Times pubblicano articoli sempre più preoccupati sulla transizione dei minori, e in Italia a stordante silenzio stampa, nelle scuole dello Stato americano si proietta 10 Years of Testosterone di Aydang Dowling, influencer F2M che fa propaganda alla vendita online di ormoni, fasce schiacciaseno e peni di gomma. I trans spot prendono esplicitamente il posto dell'educazione sessuale. Ah, giusto, giusto, perché la lobby gay vuole cancellare il genere femminile facendo diventare tutti gli uomini trans per rubarvi i diritti. E anche in Italia, psicologi LGBTQ in azione. Abbiamo perso l'uso della ragione. Invece di andare in terapia, si seguono i social. Beh, ma vedi, è proprio il pensiero di dover mandare tuo figlio a interapia il problema. Cioè, nel senso, se si sente uomo o donna saranno cazzi suoi, no? I governi non hanno l'autorità per ordinare il transgenderismo come religione di Stato. Cioè, ma io dico, cioè, ma è stata appena eletta con una maggioranza schiacciante Giorgia Meloni, che non è di certo l'icona del progressismo. Come si può pensare che ci sia una lobby che vuole instaurare il pensiero unico, la dittatura terribile arcobalena. Comunque, che si sia a favore o meno del concetto di identità di genere. Dicevo, dicevo, del concetto di sesso, si può dire. Ricordatevi sempre che uomo, maschio, cattivo, donna, femmina, buona, non ce lo porterete via. Difatti, gli uomini sono tutti pedofili e maschilisti che guardano solo porno. Non facciamo altro. La pedofilia è già insita nel patriarcato. Il disgusto e la fobia verso tutto ciò che rappresenta la femminilità adulta, come la crescita dei peli, le smagliature e la cellulite, il sangue mestruale, sono rappresentazioni della misoginia e della pedofilia patriarcale, che cerca bambine piuttosto che donne. Non so di nessuna donna etero che cerchi negli uomini dei bambini, rifiutando i loro peli, la barba, i muscoli, gli odori e tutto ciò che li rende adulti. Il fenomeno della tratta delle bambine è sempre più allarmante. La pedofilia e il patriarcato maschilista misogino sono due facce della stessa medaglia. Leggendo il post precedente, Mi viene il sospetto che, se si propagandasse a sufficienza la modificazione chirurgica dei genitali, le persone correrebbero in massa a farseli fare. La moda della depilazione genitale è solo la dimostrazione di quanto la popolazione sia ormai suggestionabile e genuflessa ad ogni tipo di diktat lanciato dai media. A breve, le donne si faranno infibulare per sentirsi in ordine. Purtroppo alla demenza umana non c'è fine, visto che ci si rifiuta sistematicamente di usare il cervello. Stiamo vivendo tempi bui. E la madonna, per una patata sbucciata, arriviamo ai campi di concentramento, ma una sarà libera di acconciarsela come cacchio vuole senza vederci per forza il patriarcato che ti controlla dietro, no? Per una donna, il massimo di libertà e di scelta è il child free. Per un uomo, bio-man o trans-man lo è gestare e partorire, definitivo scioglimento da ogni vincolo. Il sogno che si realizza, sempre quel sogno invidioso, antico come il mondo in cui si radica ogni oppressione femminile. In verità, è solo la nuova faccia di una vecchia storia. Non vedo l'ora di partorire, cacchio! Non vedo l'ora di essere lì in sala a morire dal dolore mentre mi cago addosso per lo sforzo. Ok, forse sono andato un pelino fuori dai binari, chiedo venia, chiedo perdono. Parità? No! E senza grazie! No, io la parità non la voglio. Non voglio la parità all'interno del recinto della subcultura patriarcale. Non voglio la parità all'interno della gabbia delle leggi patriarcali. Non voglio la parità con i modelli patriarcali in un sistema patriarcale. Voglio che il patriarcato muoia, sparisca a seguito della nostra rivoluzione e con esso le sue leggi, i suoi diktat, la sua scienza di parte e i suoi orrori. Nessuna parità con e tramite le modalità patriarcali. Rivoluzione delle donne. Punto. Non voglio la parità all'interno di una società capitalista, feroce, misogina, per... l'annientatrice della diversità distruttrice del pianeta. Eh, madonna, ma perché dobbiamo rendere per forza tutto un conflitto? Ti prego, io ti giuro, io sono buono, non ti voglio fare del mare, voglio la parità, non odiarmi solo perché ho il pisè. Mi piacerebbe tantissimo creare una specie di lobby di sole donne, dove nessuna deve passare da un uomo per ottenere un contratto o un lavoro. Solo donne che si aiutano tra di loro, anche se i posti sono ancora pochi per noi. Magari, pian piano, riusciremmo a occuparli. Voi cosa ne pensate? Ma guarda, diciamo che se la soluzione per uscire dai problemi della società maschilista è quella di copiare i lati peggiori della società maschilista, diciamo che non mi sembra una grandissima soluzione, ecco. Il femminismo deve entrare anche in camera da letto oppure restare fuori? Non sono sicuro di aver capito. Comunque, ricominciamo da capo. Torniamo a Monte. Allora, di cosa si occupavano le radfem? Allora, del genere, della prostituzione. Oh, cosa ne penseranno della prostituzione? Sono donne, saranno solidali alle povere prostitute sfruttate. Vorranno dargli un briciolo di dignità, immagino, riconoscerle. Cosa ne penserebbe lo scrittore, che chiede di rottamare vecchia legge Merlin per regolarizzare il sex work, se a prostituirsi fosse una donna a lui cara? Non sa che la prostituzione è quasi solo tratta e la regolarizzazione è una mamma per papponi e mafiosi? Non conosce il modello abolizionista, già in vigore in molti paesi civili. Ma guarda che la prostituzione è quasi solo quello, proprio perché tutto quello che ci gira attorno è illegale, sai? Sai com'è? Le mafie hanno quel bruttissimo vizietto di dedicarsi a tutte quelle attività un po' borderline, tipo la droga, le armi, lo sfruttamento, insomma, chissà, perché non fanno mai delle bellissime pasticcerie, ecco? Ora deve chiedere scusa alle bambine che saranno avviate con l'inganno, con la forza, con la sistematica demolizione della loro dignità umana alla prostituzione in quanto donne e deve chiedere scusa anche ai figli delle prostitute, vittime loro stessi perché testimoni traumatizzati di quanto subiscono le loro madri. Le donne non dimenticheranno. Che schifo, Roberto Saviano! Che schifo! Non aspettano altro quei p***i bavosi degli uomini. Così, amnesty, i lavoratori del sesso hanno diritto agli stessi diritti di chiunque altro. Non sono lavoratori. Il sesso non è un lavoro, ma una forma di schiavitù incompatibile con la dignità umana. Si ha diritto al lavoro, non ad essere posto in vendita. Siamo nel 2022, ormai dovrebbe essere chiaro che il proibizionismo non porta alla fine di quelle attività che voi definireste deprecabili. Ma poi voglio dire io nel senso voi siete femministe, dovreste difenderle le donne sfruttate, dargli una dignità, non sminuire quello che fanno. Soprattutto se poi mi commentate in questo modo il fenomeno inverso, per quanto sia marginale. E su, dai! Ma d'altronde, la solidarietà femminile in questo gruppo non esiste, o almeno esiste solo per chi la pensa come loro. Ad esempio, prendo questa ragazza che su TikTok ha fatto un video in cui dice che preferisce lavorare con gli uomini che con le donne. Condivisibile o meno, è solo una sua opinione personale, insomma, non è che dice che le donne sono tutte cattive, ecco. Una poveretta. Cultura Est Europa. Io quando sento una donna parlare così mi sanguinano le orecchie e gli occhi. Non ce la posso fare. Non si rende conto che lavorare con gli uomini è più ogevole solo perché magari quelli la trattano decentemente solo perché sperano di scoparsela? Cioè, siete più maschiliste voi dei maschilisti così? Una ragazza dà la sua opinione a riguardo, giusto o sbagliate che sia. Eppure c'è del vero in ciò che dice. Ho lavorato in un pronto soccorso dove sono stata l'unica donna per un po' di anni. Sono stata meglio del solito in quel periodo. Tra donne si innescano quasi sempre logiche di competitività e critica. Perché non contavi niente? Motivo per cui sei stata lasciata in pace dai colleghi. Come fai a sapere che non contavo niente? Che ne sai? Lo stile. Lo stile che dice di una persona. Eh, lo stile. O comunque, guardate ancora ad esempio qua. Un post di amnesty che parla della libertà di vestirsi come si vuole. È semplice. Come facciamo a non capirlo? Si sceglie il burka come si sceglie il bikini. Allora, punto primo, questo non è un burka comunque. Detto ciò, così come noi scegliamo di torturarci con i tacchi altissimi, indumenti costringenti e decine di prodotti chimici in faccia. Così come si sceglie di prostituirsi, di affittare l'utero, di rifarsi il corpo dalla testa ai piedi. Qui si parla di vestizione religiosa che non ammette trasgressioni, dice una. Chi ha detto che non ammette trasgressioni? Questa è la vulgata islamista! E non è proprio la stessa cosa, amica mia. Per quanto tu possa crederlo, nessuno ti costringe a dare il tuo utero in affitto. Invece, non penso che una donna in Afghanistan, nell'Afghanistan dei talebani, sia libera di metterci i tacchi a spillo che il patriarcato ti costringe a mettere. Io chiuderei a questo punto la puntata con un po' di meme dal mondo radfem, perché sono un pelino cringe, ma spiegano bene quanto poco elastico sia questo pensiero. Allora, sono tutti fatti con gli animaletti, perché gli animaletti sono carini. Padroncina, è già finito il patriarcato? No, micia, adesso si chiamano queer. Ma io sono un uomo gay, non posso essere misogeno. Dicevi? Miau? Poi una bellissima libellula su un fiore che dice Volevo solo giocare con le bambole, adesso sono medicalizzato a vita in nome del progresso. Mammina, da grande voglio fare la prostituta. Brava amore, l'importante è che tu scelga liberamente e che tu sia autodeterminata. Ti porterò alla scuola di pompini. Hai già scelto il nome d'arte? No, lascerò scegliere il maestro. Perché credi che il pride sia più popolare e accettato dalla società rispetto al femminismo? Non credo, perché i protagonisti sono uomini. Bene, spero di essere riuscito a comunicarvi il mio pensiero che gli estremismi e le intolleranze possano rappresentare dei piccolissimi problemi e generare odio e criticità varie senza passare per maschilista, misogeno, arcobalenosamente gender, difensore del patriarcato e tutto quanto. Vi invito a lasciare un piace, un commento, condividere il video, dirmi che ne pensate, dare i miei suggerimenti e quant'altro. Vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video e vi lascio con l'ultima foto che, diciamo, riassume quanto abbiamo visto oggi. Terribile estremismo che si avvicina a tutti gli altri, ottusi e vincolanti, qualunque sia la società e la cultura in cui si sviluppa. Ritengo che, nonostante tutto, la nostra condizione di femmine non possa in alcun modo andare contro la nostra stessa natura. Si può scegliere cosa essere o diventare. Non tutte nascono per essere madri, ad esempio, o mogli, ma in libertà. Io liberamente sono moglie, madre e medico. Non mi sono mai sentita vincolata da questi ruoli perché ho sempre liberamente scelto cosa essere, pur venendo da una tradizionalissima famiglia. La libertà va coltivata, scelta, sofferta, ma nel suo raggiungimento e non in limitazioni estreme che si trasformano in nuove schiavitù. Un messaggio bellissimo che condivido.